Assessore, l'importanza di questa mostra su Silone è anche per rivalutare l'Abruzzo in Europa? Sì, perché tutto ciò che si fa per valorizzare Silone e la sua opera è indirettamente una valorizzazione dell'Abruzzo, sia perché stiamo parlando di una straordinaria personalità culturale del Novecento abruzzese, sia perché gran parte della sua opera, soprattutto dei suoi romanzi, è ambientata in Abruzzo, nella sua terra. Quindi questo, indubbiamente, garantisce un legame ulteriore oltre che la provenienza di nascita, cioè l'abruzzesità di Silone. Quello che è da dire è che l'iniziativa è meritevole, come tutte le iniziative serie finalizzate a far conoscere e divulgare l'opera di Silone, che muove, torno a due valori fondamentali della giustizia e della libertà e che va sempre più rivalutata rispetto ad una marginalizzazione che ha subito da un certo tipo di cultura dominante negli anni, nei decenni del Novecento, del secondo Novecento, e che è ingiustificata. È un'opera straordinaria, di un autore straordinario, che andrà supportato sotto il profilo della divulgazione, dell'approfondimento, della conoscenza, soprattutto in tutto l'Abruzzo, nella nostra terra, anche attraverso dei seminari, dei convegni, delle relazioni con gli istituti scolastici, proprio a finalizzare e a far conoscere l'opera di questo straordinario conterraneo. Grazie, Assessore.